Il filo conduttore di questo ricco calendario è la volontà di ribadire che noi siamo fortemente legati ai valori della resistenza in cui ci riconosciamo ancora oggi e sempre di più considerato il particolare momento storico. Domodossola è antifascista, questo territorio è antifascista e noi siamo antifascisti e sia chiaro siamo assolutamente contrari a qualunque tentativo strumentale di revisionismo. È un gruppo di lavoro che ha messo assieme diverse anime, si è lavorato per circa un anno ed è davvero corposo il calendario di iniziative messa in cantiere. Il calendario di eventi, convegni e manifestazioni è davvero corposo ed è proprio collegato a questo segnale forte di richiamo ai valori di cui parlavamo prima. È stato un lavoro molto importante, appassionante, che ha visto molti soggetti coinvolti che hanno saputo lavorare in sinergia per questo risultato. Una sedia vuota, simbolo di un ricordo per una persona che è nel cuore e nella mente di tutto, per Antonio Ragozza che ha lavorato con voi in questa commissione. Lei oggi nella cerimonia iniziale dei drappi che colorano il balcone del Palazzo Municipale ha voluto accanto a sé la famiglia. Un ricordo toccante per tutti noi, un grande storico, un grande collaboratore dell'amministrazione ma anche un grande amico, una persona che avrebbe certamente voluto essere qui con noi oggi. Lui ci teneva molto e noi abbiamo voluto immaginare che lui comunque sia qui con noi oggi. Come tradizione di Domo d'Ossola, il premio della Repubblica Partigiana dell'Ossola, la cerimonia in programma per il 4 di ottobre, quest'anno il premio va a Benedetta Tobagi. L'assegnazione del premio, come tutti gli anni, è stata decisa dall'apposita commissione e è stata indicata una persona sicuramente molto importante per la storia della resistenza e per i valori che sempre vogliamo ricordare.